Grande vittoria per il Parma, sei stato un ottimo protagonista, tre punti pesanti. Sì, è una partita molto sofferta, in un campo molto difficile, dove l'Ascoli ci ha metto in tanta difficoltà. Ci teniamo questi tre punti che sono importanti per andare avanti in questo campionato che è lungo e stosto. Ci racconti la punizione del gol, sei stato omicidiale? Faceva tempo che non calceva una punizione, quindi aveva questa voglia di calciare. Ho avuto qualche dubbio perché anche Denis, che aveva fatto due gol, mi ha chiesto di dare la palla anche a Ansaldi. Però ho fiducia nel mio lancio, faceva tempo che non calciavo una e per fortuna è andata bene. Siete andati un po' in difficoltà dopo il pareggio di Carigara? Perché c'è stata qualche occasione da parte dell'Ascoli e poi Mahan e tu l'avete chiusa. Sì, come ho detto prima, l'Ascoli è un'ottima squadra che ci mette in tanta difficoltà perché è un campo difficile, ti vengono uomo contro uomo tutto il campo. È vero che questo gol ha dato fiducia a loro e questo è importante che anche la squadra quando soffre, quando passa in questo tempo di difficoltà, raggiunge dopo, è capace di fare due gol, tre gol. Anche abbiamo avuto più situazioni per fare di più, quindi sono contento che la squadra sa soffrire e sa lottare anche. Il sogno della Serie A dove tu meriti di giocare perché non sei un giocatore di Serie B? Sì, aspettiamo, aspettiamo. Dobbiamo andare partita a partita, tre punti, quindi sempre umili e con serenità. Grazie.